4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Melania bisogna ripartire subito con nuovi stimoli dopo la partita di Brescia Sì, dobbiamo archiviare la brutta partita che è stata col Brescia non abbiamo giocato e dispiace aver perso l'opportunità di portare a casa i tre punti e stare ancora in vetta dispiace la brutta prestazione adesso sabato abbiamo il Como e poi ripartiamo con il girone di ritorno archiviamo subito questa battosta e ripartiamo alla grande dobbiamo tornare a fare gioco come lo facevamo qualche mese fa e dobbiamo lottare per rimanere là sopra Il Como non è promossa però è una squadra che ha già fatto lo sgambetto a più di una grande Sì, non è promossa però credo sia una squadra tosta una squadra che non molla e sicuramente verrà qua per portare a casa qualche punto noi dobbiamo essere brave a ritornare quelle di prima con la testa sul campo e vincere e vincere Grazie 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 Grazie